Aruba ID ti permette di accedere a tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle aziende che aderiscono al sistema SPID. Prenotazioni, pratiche d'impresa, iscrizioni scolastiche, servizi IMS, referti sanitari, accesso alla rete Wi-Fi pubblica con un'unica credenziale. Puoi accedere velocemente ai servizi online da qualsiasi dispositivo e ovunque ti trovi, con la totale protezione dei tuoi dati personali. Se sei un privato, un libero professionista o il titolare di una ditta individuale, con Aruba ID crei la tua identità digitale in pochi e semplici passaggi. Anche se sei un'azienda, puoi migliorare il tuo business con un'identità digitale e ad un prezzo vantaggioso. Hai già attivato la tua Aruba ID? Puoi aggiungere altre credenziali per aumentare la tua sicurezza. Aruba ID con credenziali di sicurezza L3 ora è gratis. Solo con Aruba ID. Aruba ID.